Direi che l'edificazione è record, oltre 160.000 visitatori e direi anche un dato importante sull'estero perché raggiungiamo il 16% ma è un 16% molto qualitativamente importante. Dall'altro punto di vista è un vero sold out di tutti gli eventi, soprattutto del Gala Serale e di questa finale del Jumping Verona. Ancora importante in questa fiera a cavalli da sottolineare la grande attenzione e il successo riscorso dal mondo del turismo a cavallo. Italia che torna ad essere grande protagonista delle ipovie e Veneto che nelle ipovie riesce anche ad esprimere oggi dei livelli qualitativi e di quantità anche davvero interessanti. È un filone che stiamo seguendo per una fiera a cavalli che sia sempre di più a portata di tutti perché tutti possono trovare in questa manifestazione quel pezzo di loro passione che è a disposizione veramente di chiunque voglia vivere questa esperienza. Grazie a tutti! Grazie a tutti!